Con la consegna dei patentini per lo smartphone ai 125 ragazzini di prima media della Pierpaolo Pasolini di Rorai, è terminata la fitta serie di attività che quest'anno hanno impegnato quasi 400 giovani studenti delle medie di Pordenone, da Rorai a Torre, dal centro storico a Pordenone Sud. Gli incontri sono stati condotti dai formatori dell'associazione MEC ed hanno coinvolto attivamente i ragazzi sui temi della sicurezza informatica, sui diritti e responsabilità nelle relazioni online, sulle emozioni e sulle dipendenze digitali. Alcune lezioni sono state riservate anche ai genitori per fargli conoscere il mondo in cui vivono i loro figli, oltre ai rischi che questi possono correre in rete. È stato molto impegnativo perché si sono seguite diverse lezioni. L'intento era quello di creare un modo di dare degli strumenti ai ragazzi di consapevolezza di questo smartphone che li ha accompagnati durante il Covid, ma dal quale ci si può anche staccare inventando magari qualcosa di bello, andare a giocare con i compagni fuori. L'idea è quella di rendere questi ragazzi consapevoli, critici nei confronti di questo strumento che è molto utile e di cui è molto importante conoscere effettivamente i diversi aspetti. Lavorare in termini di sinergie è un fatto determinante. Noi siamo di fronte a uno sviluppo tecnologico potentissimo e non possiamo pensare di fermarlo in alcun modo. L'unica cosa che dal nostro punto di vista si può fare in modo molto serio è quella di condividere delle regole, condividere una prospettiva, una visione educativa che ovviamente deve vedere insieme, vicine, le famiglie, le scuole. Ecco perché questi progetti sono importanti, perché chiaramente noi forniamo ai ragazzi tutta una serie di competenze, di conoscenze, ma chiediamo un forte contributo, un forte impegno anche da parte della famiglia, perché poi alla fine sono loro quelli che a casa seguono i ragazzi. Quindi un progetto come questo è un progetto che vede molto vicine scuola e famiglia in quella che deve essere un'alleanza educativa imprescindibile oggi come oggi. È un progetto su cui il Comune crede molto e su cui è investito molto. Ha coinvolto centinaia e centinaia di bambini e ragazzi delle nostre scuole, ma anche genitori, dalle elementari alle superiori. Un progetto fondamentale perché è stata un'iniziativa silenziosa e preziosa, utile per fare in modo che il tessuto sociale e giovanile della nostra città sia migliore. Gli interventi ci sono stati tanti, ma ci siamo concentrati sull'uso del telefonino, perché è quello da cui passa tutto il mondo e passano anche gli atti di bullismo e di cyberbullismo, quindi è importante imparare a usarlo consapevolmente e responsabilmente e i genitori sanno di cosa parlo.